Romina Power condivide con i fan un dettaglio sulla figlia scomparsa che ha commosso tutti, ecco cosa ha deciso di fare dopo averla persa. Romina Power ha una delle cantanti più amate e conosciute dal pubblico italiano e non solo che con la sua musica ha riuscita a far cantare anche le persone all'estero che ascoltano le sue canzoni. Con Albano sono due artisti di alto livello ed insieme sono fenomenali. I due sono stati sposati per molto tempo ed hanno creato una famiglia meravigliosa. La vita più a volte li ha messi a dura prova, in particolare con la scomparsa improvvisa della figlia Ilenia. Romina Power, il dettaglio sulla figlia foto Romina molto attiva sui social dove condivide con i fan molti momenti delle sue giornate anche se spesso preferisce tenere per sa diritti d'autore la parte più intima della sua vita. Non oggi per a quadrato. Infatti, la cantante ha pubblicato alcuni passi del suo primo romanzo ed un dettaglio che nessuno conosceva. Si tratta di sua figlia Ilenia, scomparsa all'improvviso di cui non si sono più a trovate tracce. Cosa scrive sui social che Poi si legge in una delle pagine che Maggiore 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 Passano gli anni ma la ferita resta aperta e lo sarà per sempre, Romina e Albano hanno sofferto molto e soffrono ancora per quello che ha successo nella loro famiglia, di cui nessuno conosce i motivi, neanche loro. Ilenia scomparsa Pia di 20 anni fa senza lasciare tracce. Sappiamo soltanto che era nei pressi di New Orleans.